3, 2, 1 Il quadro di Dalì, la reminiscenza archeologica dell'Angelus di Millet, è forse un punto di unione tra l'antico e il nuovo che avanza, con una fortissima dichiarazione, ovvero che noi siamo quei nani sulle spalle dei giganti che ci hanno in qualche modo preceduto. Infatti i personaggi rappresentati da Millet qui sono diventati delle grandissime costruzioni, proprio architettoniche, a cui altri piccoli esseri viventi, umani, guardano e indicano quasi come fossero uno spettacolo a cui si sta partecipando in questa grandissima landa desolata. Un quadro senza dubbio molto interessante che ci possa far capire anche quello che è la rivisitazione del passato agli occhi e con le tecniche del presente. Ovviamente un presente che sempre attinge a piene mani da quella che è stata la nostra vera e propria origine nella pittura. E su questo Dalì è sempre stato un grandissimo maestro.